Buonasera, siamo in diretta dal Di Cagno per la seconda giornata dell'Uni League. Sono qui con Nicolás, numero 7 della squadra Snatchers Mega Squad, e che per la seconda volta hanno perso la partita. Che cosa, diciamo, che cosa, perché hai visto tutto così? Due partite in cui non avevano dato il menu di un campo, semplicemente perché la squadra non si è stata tutta l'ultimo e non ci conoscevamo del tutto. Buone occasioni che non sono state finalizzate, abbiamo subito quasi tutte le ripartenze di questo. E cosa consigli per avere una ripresa della squadra? Semplicemente bisogna fare tutto un passo indietro per capire quali sono i nostri errori e cercare di migliorare nella prossima. Va bene, grazie.